Ciao a tutti amici! Come state? Spero che state bene. Oggi c'è un video un po' particolare, un po' bellino. Mio marito mi ha regalato una cosa veramente fotonica. Lo so, sarà un regalo da bimba minchia, ma non mi piace troppo. Ed è questo, il Furby. Si chiama principessa poi lante, una cosa del genere. Ci sono diversi colori. Tanta? Veramente? Allora, ci sono... Un'applicazione, si chiama Fumbi Boom. Vedete? Vedete? Tasto gioca. Continua. Allora, una gioca che si è un Furby, ovviamente, si possiede un Furby. Adesso andiamo a scansionare per far rilevare l'applicazione col Furby. Vediamo. Forse ce la facciamo. Allora, si chiama Duca. Vedete? Sì, si è bloccato, molto bene. Facciamo la doccia. Adesso vi faccio vedere come funziona. Dobbiamo mettere, praticamente, guardate così. Gode. Sta godendo. Buon finito. Vedete? Vedete? Qui può anche andare in bagno, vedi? Duca, bisogna ottenere un uovo, sto capito? Ah, buon finito. Qui ci sono anche le uova, eventualmente, così hai altri Furby da mantenere, insomma, avete capito? No. Sta trovando l'uovo. No. 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 So, è finito. Sto sognando. Eccolo, guardate. Sta comando l'uovo. Oh, scusate. Eccolo. Ah, un fermaco, un fermaco. Un uomo, un uomo, un uomo. Un altro uomo che si... Coviamo sto, sto uovo, perché non ha niente. Andiamo a aspettare. Andiamo a aspettare. Intanto che cova... Guarda, eh. Guarda, se c'è la coda... Attenzione! Tio, buon! Così? Tio, buon! Tio, buon! Oh, oh! Ciao, dai! Ciao a tutti! Tio, buon! Tio, buon! Tio, buon! Puoi imparare 600 parole. Puoi imparare. Tio, tocate un attimo perché... Ecco. Ecco, dice... Praticamente, Duca... Lei... Deve dare un po' di amore... Di affetto all'uovo. Quindi... No, no, no. Non direi che cosa l'ho fatto. Aspettate un attimo perché non l'ho rilevato. Guardate. Ecco, vedete? Si è schiuso l'uovo. Uovo è abatto! Uovo è abatto! Uovo è abatto! Uovo è abatto! Guardate. Uovo è abatto! Uovo è abatto! Uovo è abatto! Uovo è abatto! Guardate! Che bravo! Favoloso! Favoloso, Fuby! Fu syssa! Me ha visite tutte... Non a me, ne... Temi piace tanto... Un desparno debe mandar un nome a questo piccolino. Vediamo che nome possiamo dare... Caccone! Lo chiamo caccone, va bene? Uovo è abatto! Adesso praticamente dobbiamo, siccome abbiamo un altro bimbo, si chiamano Caccone, dobbiamo mettere un po' di, vedete, un po' di, vediamo un po' che vi sposto un po', ecco, facciamo il fullato, vedete, va bene, adesso dobbiamo lavorarci su comunque. Ruta, aiuta, piaci tanto, ecco, arriva, ha scorreggiato, aiuto, aiuto, se volete vedere altri video del Furby, perché nell'applicazione c'è, ci sono, l'ho bisogno di da mangiare, basta, ecco, è pazzita, allora, se volete vedere altri, perché vi spiego, nell'applicazione Fuby può anche andare in bagno, quindi c'è la sua tavolozza del cesso, bellissima, dove lei va in bagno c'è proprio il cesso di cristallo fotonico. adesso Fuby deve fare la pipì o la cacca, quindi, è tanta duvola la cacca, vedi, vedete, l'applicazione da UFO, adesso, vedete, basta, finire la posizione, vedete? ha fatto la cacca, ha fatto la cacca, mi vergogna, si vergogna anche, no, si, scusate, piano giù scioccone, no, beh, è fotonico, c'è anche da, e poi, ti darà un, niente, puzza, puzza, vedi che puzza, siccome la cacca c'è la puzza, siamo spruzzate l'adorante, vabbè, è fotonico, certo, stiamo indietro, benissimo, può, c'è la fame, possiamo dargli da mangiare, il nostro Fuby, ci mettiamo, vediamoci questo, ha mangiato? e basta? quindi, praticamente, l'abbiamo appena comprato, quindi, sa solo dire il suo nome e qualche parolina, ma proprio poco, quindi, duca, canta 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 rotta rotta, furbi come ti chiami tanto duro tanto duro e tanto duro attenzione marta è pazzoide davvero? sei pazza? molto contenta piace? abbiamo capito che è brutta scorreggio fa la cacca ama questo ballo? balla furbi balla sta ballando ragazzi sta ballando allora amici bene abbiamo finito se volete vedere altri video del mio forbi stanno sto ballando a metà tempo è pazza se avete avuto altri video vi dicevo il mio forbi scrivetelo nei commenti mettete un mi piace al video e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto al prossimo video e alla prossima avventura ciao a tutti